E ecco i due sindaci di Cesenatico e di Verona, perché questa è la colonia veronese. È l'ex colonia veronese. Ah, ecco, quindi non veronesi di cognome. No, 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 veronese, perché venivano le suore della misericordia. Sì, ma c'era la proprietà e la comunale. Infatti noi l'abbiamo comprata da una serie di comuni, la comuni di Verona. Infatti c'è il nostro comandante di Carabinieri, che non so se è arrivato, è quello di Verona, è una ricorda che la Spiller si chiama, dopo quando viene quello presente. Infatti Spiller è un po' di modena vostra. Quindi allora al di là dei colori politici c'è proprio un legame Verona-Cesenatico, e quindi i coloni veronese venivano da Verona. Venivo anch'io, io da bambino venivo qua in Colonia. Il sindaco di Verona. C'è lo stesso colore politico che amministra, la cesenatico. Ma io non volevo dirlo, ecco quindi, però al di là di questo sicuramente c'è un legame che lega, che lega insomma. È una buona amministrazione. Ecco, bene, bene. Marami un po' e dormi qui. No, non riesco a dormire qua. Però sto qua, è la serata, sicuramente torno qui. Bene, bene. Buona serata. Buona serata. Buona serata, un po' di saluti, ci vediamo dopo. A te? Ciao. Ciao, buongiorno. Bene, bene, bene. E noi andiamo poi domani sera a vedere l'Aida. Ah sì? Con la fura del Baos. E penso che... Lei l'ha vista? No. No, però ho dei parenti che cantavano Tenore e La Scala, hanno cantato a Chiaverona, all'Arena. E che sono? Fratelli Buda. Fratelli Buda. Ah. Anni e anni fa. Ah, quindi c'è un altro legame. Un legame. Adesso all'Arena non so, La Scala è sicuro, però. Ero sempre Scaligeri. Sì. Sì.